Allora, buonasera, siamo qua un attimo a sole, che sono? Sì, siamo arrivati qua alle tre e mezza, tre e mezza più o meno Sarà un quattro alle quattro, una cosa del genere Controllo? Si controlla un attimo, per favore, tervi Vediamo se avete la zecca Perché io non posso guardarlo? Il cazzo è bollente 3.42 Ah beh, ok Si vede? Si, era un minuto fa 41, giusto? Ovvio, quindi è 42 Diciamo che possiamo stare, perché Quattro e mezza, no? Si Quindi dai, ci sta Tanto, dopo ci ripariamo un attimo Poi andiamo un attimo in taverna, ci ripariamo un attimo Poi domani c'è un affanculo E poi ce ne andiamo affanculo, ci vediamo domani mattina alle 6 Si E te arri? Per te, domani ti alzi alle? No, penso otto, otto e mezza Cioè, sì Vabbè, noi spesso anche saremo a mare a sto punto Si, si Se non troviamo traffico a Bologna Noi sappiamo il traffico che c'è a Milano Lì, perché lì vanno tutti a lavorare Sì Le 7 e mezza Sicuramente Adesso poi estate Oppure vanno a mare Oppure vanno anche a mare Sì Perché tanta gente va a fare Sì Un repart Anche a mare Anche a mare Sì Quindi Lavoro e mare Però sicuramente a Bologna troveremo traffico Per cui alle 8 e mezza, 9 quando si sveglierà Sì, le 8 e mezza, 9 lei sveglia 8, 9 9, 10 10 10 Alle 10 Alle 10 Sono 4 ore Per cui Per cui potremmo essere giù alle 10 Ci sta come tempo Ci sta Ci sta Mare Mare Subito mare Subito ovvio E poi? Vabbè dopo Poi papete Ah sì sì Un aperitivo nel papete Ah sì Può fare un aperitivo al papete Poi si può andare a mangiare Sì Anche alle 3 ci danno Quindi alle 3 ci danno Alle 3 ci danno la camera Come detto nell'email Bene Che altro dire? Va bene ci vediamo Facciamo un altro video Poi dopo Ne m'affanculo Ciao Salute a te